A partire dal 17 giugno una serie di eventi estivi che partiranno appunto con l'equinozio d'estate fino ad arrivare all'equinozio d'autunno e che vedranno protagonisti due piazze storico-culturali della nostra città, del nostro centro storico, le piazze dei teatri e il nostro parco del popolo, gli amati giardini pubblici. Questo cartellone racconta una serie di iniziative che vanno dall'offerta inogastronomica attraverso gli street food al parco del popolo, attraverso l'offerta per i più piccini, tornano i nostri amati grilli, laboratori, show cooking, ancora cena in bianco, eventi musicali che attraverseranno tutto luglio fino ad arrivare a settembre all'insegno di un'animazione conviviale, un'animazione gentile fatta grazie alla collaborazione con i principali stakeholder della città, alla promozione fatta insieme all'associazione di categorie nonché alle associazioni culturali che sostengono e hanno sostenuto il percorso d'eco del cappelletto reggiano e ancora di valorizzazione del percorso di IGP dell'Erbazzone. Avremo l'Erbazzone, avremo il cappelletto reggiano, avremo tanta animazione artisti di strada rivolta alle famiglie e ai bambini. Una partecipazione gentile su un versante veramente molto importante, quello delle piazze dei teatri che meritano di essere vissute e di essere valorizzate.